Rieccoci alle prese con un aggiornamento di Windows 10, nello specifico il 19.03. Vediamo come metterlo e come eventualmente toglierlo. Ciao, bentornata sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. È tempo di aggiornamenti di Windows, quest'anno abbiamo il 19.03. Io devo dire che l'ho messo su un paio di miei computer e sono contento a metà, diciamo, su un computer ha funzionato bene, su un altro no. Innanzitutto, come si fa a mettere l'aggiornamento di Windows, l'ultimo, il 19.03, se non fa nulla da solo? Semplicemente si va in Cortana, in questa posizione qui, vado a scrivere aggiornamento, vado su verifica disponibilità aggiornamenti e arrivo in questa finestra, questa immagine che io ho preparato aperta già sul mio computer e che ho salvato prima di fare l'aggiornamento, perché ora il mio Windows è già aggiornato alla versione 19.03. Per cui, quando sono andato nella verifica disponibilità aggiornamenti, quando ho scritto questa cosa in Cortana, era apparsa in questa schermata, in questa Windows Update, aggiornamento delle funzionalità a Windows 10 versione 19.03. Mi è bastato cliccare su scarica e installa ora e il computer ha fatto tutto quanto da solo. E devo dire che ha impiegato tra i 30 minuti e un'ora al massimo. Il computer ora è molto veloce e quindi è andato tutto bene. Funziona bene, sono contento. Dato che sono contento di questo aggiornamento, ho voluto farlo anche su un altro computer di casa. In questo caso le cose non sono andate bene, o meglio, ha funzionato tutto bene, si è aggiornato in poco tempo, niente da dire. L'unica cosa, non funziona più il secondo monitor. A quel computer, come nel mio principale del resto, è attaccato un secondo schermo e Windows 10 aggiornato non lo rileva. Quando vado nelle impostazioni del doppio schermo, ora chiudo e ci andiamo, così lo possiamo vedere, per cui faccio tasto destro sul mio desktop, vado su impostazioni schermo e qui ho la possibilità di gestire il mio doppio schermo. Mentre invece sull'altro computer, dopo l'aggiornamento, alla voce più schermi, usciva nessun altro schermo trovato e scritto semplicemente guarda che alcuni schermi tra i più vecchi potrebbero non essere rilevati da Windows 10. Quindi, in definitiva, uno schermo che fino a pochi minuti fa andava, ora per Windows 10 è troppo vecchio e non si può più utilizzare. A questo punto possiamo decidere di cambiare schermo, ovviamente, ma anche di tornare alla versione precedente di Windows 10. Perché sì, posso tornare indietro da un aggiornamento. Questa cosa però ha un termine di scadenza. In alcuni casi ho letto su internet dieci giorni. Non so dirti temporalmente quanti giorni effettivi tu abbia prima di ritornare a una versione precedente di Windows. Però è possibile farlo. Ed è bene farlo subito dopo essersi accorti che qualcosa non va. Perché se io utilizzo il mio computer per diverso tempo e poi a un certo punto decido di tornare alla versione precedente, tutto quello che ho fatto nel frattempo, in termini di impostazioni di applicazioni installate e non di file utilizzati o salvati nel computer. Quindi se ci ho messo delle foto, quelle rimangono. Se ho scritto delle lettere, quelle rimangono. Se ho fatto dei conti, quelli rimangono. Ma se ho fatto delle impostazioni al computer e se ho installato delle applicazioni per utilizzarle con il computer, se tolgo l'aggiornamento, tutte queste cose smettono di funzionare. Quindi è comunque una buona cosa valutare subito se proseguire con questa versione perché va tutto bene o se invece voglio tornare indietro. Bene, come faccio a tornare indietro in caso di aggiornamento non andato a buon fine? Posso avere due possibilità. Partiamo da zero. Quindi sono sul mio desktop. Vado in Cortana, scrivo aggiornamento. E qui vado su visualizza cronologia degli aggiornamenti. Premo e trovo che da questa finestra posso gestire gli aggiornamenti in due modi. Allora, innanzitutto questa è la cronologia degli aggiornamenti e nel mio caso l'ultimo aggiornamento è del 12 giugno dove mi viene detto che questo aggiornamento è un aggiornamento delle funzionalità di Windows alla versione 19.03. Quindi un cambiamento generale di Windows, dell'aspetto di Windows e del funzionamento dello stesso. Mentre invece potrebbero esserci anche altri aggiornamenti che sono questi, aggiornamenti delle definizioni. In questo caso sta a significare l'antivirus. Il nostro antivirus, in questo caso io utilizzo Windows Defender, viene aggiornato. Questa installazione è stata fatta il 17 giugno per cui è di oggi. Il computer l'ha fatta da solo e ha aggiornato l'antivirus Windows Defender del mio computer ai virus più recenti conosciuti, per cui mi sta bene. Oppure altri aggiornamenti, in questo caso sono due, vado a premere e vedo questo tipo di aggiornamento e qui devo cercare un po' di capire se mi interessa o no. Ok, dopo questo discorso io posso quindi andare a scegliere se eliminare, quindi se tornare indietro da un aggiornamento. E ho due possibilità. Opzioni di ripristino e disinstallare gli aggiornamenti. Vediamole entrambe. Vado prima su Disinstallare gli aggiornamenti. Per cui vado a premere in questa posizione e mi appare una schermata dove vengo informato degli aggiornamenti installati nel mio computer. Qui ci sono anche data e ora. Vado a ingrandire un po' la schermata. Eccola qua. Posso leggere bene di cosa si tratta. Qui c'è tutto il testo. Aggiornamento per Microsoft Windows, aggiornamento per Microsoft Windows, l'aggiornamento per la sicurezza per Microsoft Windows con le relative date. E a questo punto mi viene detto per disinstallare un aggiornamento selezionarlo nell'elenco, quindi fare clic su Disinstalla o Modifica. E quindi qui io mi trovo già un po' in difficoltà, nel senso che devo sapere esattamente di cosa si tratta e quindi sapere se è ciò che voglio disinstallare o meno. E può non essere semplice. In questo caso può aiutare la data di installazione, per cui se ho appena fatto un aggiornamento e quello non funziona, la data sarà di oggi o di ieri in base a quando è stato fatto e quindi potrò andare a selezionarlo. Ora provo a selezionarlo e qui non mi viene detto di disinstallare. Proviamo con un altro. Ecco, in questo caso andiamo a notare questa cosa. Aggiornamento per la sicurezza per Microsoft Windows. Una volta selezionato come da istruzioni, io non ho alcuna voce di disinstallazione. Questo me lo devo tenere. Non si può disinstallare. Mentre invece se premo su questo ho la voce disinstalla. Per cui se io dovessi farlo, ora non voglio perché questo computer funziona bene e quindi mi stanno bene gli aggiornamenti per questo computer, basterebbe che io premessi disinstalla. Mi viene chiesta conferma. Sei sicuro di voler disinstallare un aggiornamento? Se non sono l'utente amministratore mi viene chiesta la password dell'utente amministratore, cioè di colui che ha il controllo del computer e l'autorizzazione a installare e disinstallare cose e il computer fa da solo. Disinstalla, si spegne, si riaccende e dopo qualche minuto, e qui dipende dal tipo di aggiornamento e dal tipo di computer, quanto aspetterai, il computer torna senza quell'aggiornamento. E quindi ci siamo. È piuttosto semplice disinstallare l'aggiornamento. Ma l'aggiornamento di cui stiamo parlando oggi non lo troviamo qui. Cioè, se io voglio tornare alla versione precedente di Windows, quindi nel mio caso era la 18.03, perché non legge il secondo schermo su quel computer, non posso farlo da qui. Quindi devo chiudere questa finestra e devo andare su opzioni di ripristino. Cioè, il cambiamento è stato talmente grande nel Windows che bisogna ripristinare la versione precedente. Non è solo stato aggiunto qualcosa che ora togliamo. No, è stato cambiato un po' tutto quanto il Windows e quindi bisogna ripristinare la versione precedente. Quindi si va su opzioni di ripristino e qui, leggendo le varie cose e facendo attenzione, perché sbagliare poi è facile, trovo questa voce, scritto bello in grande, in realtà torna alla versione precedente di Windows 10. Se questa versione non funziona, prova a tornare a una precedente. In questo caso, se prima funzionava, dovrebbe essere tutto a posto. Dico inizia e dopo qualche istante appare questa schermata dove mi chiedono perché torno indietro, cioè vogliono un attimo capire di cosa si tratta, quale problema ho. E nel mio caso ho selezionato le mie app o i miei dispositivi non funzionano in questa versione, perché il mio secondo monitor non funziona. Quindi ho attivato questa casellina e in conseguenza di ciò si è attivato avanti, quindi ora potrei proseguire. E qui magari mi chiedono ma dici qualcosa di più? Fammi capire di cosa si tratta. E qui semplicemente ho scritto il mio secondo monitor non funziona più. Dopodiché ho detto avanti. Ora mi stanno dicendo prima di togliere la versione precedente vuoi provare a installare gli aggiornamenti più recenti? Magari con questi aggiornamenti quel difetto che tu riscontravi sul tuo computer potrebbe essere risolto perché magari ce ne siamo accorti altri lo hanno segnalato e abbiamo messo a posto. In questo caso basterebbe fare verifica disponibilità aggiornamenti. Io non ho voluto farlo perché l'aggiornamento è stato fatto in giornata non funziona è impossibile che in mezz'ora ci sia qualcosa di nuovo che ora fa funzionare il mio monitor. Per cui ho detto no grazie torniamo alla versione precedente passerò alla nuova versione in un secondo momento tra qualche tempo. Quindi dico no grazie e ora vengo informato di alcune cose prima di proseguire. L'operazione potrebbe richiedere un po' di tempo e non potrai usare il PC fino al termine. Lascia il PC collegato alla rete elettrica e acceso. Quindi mi stanno dicendo guarda che il computer sarà fuori uso per diverso tempo e non sappiamo quale sia questo tempo potrebbe essere mezz'ora come potrebbe essere due ore come potrebbe essere tre ore dipende dal computer e dalla consistenza dell'aggiornamento lascialo collegato alla rete elettrica. Se è un portatile fai in modo che sia attaccato alla corrente. Non deve finire la batteria mentre stiamo facendo questo lavoro perché è molto importante e uno spegnimento accidentale potrebbe causare poi il non più riavvio di Windows cioè se mi fermi mentre sto lavorando poi le cose potrebbero andare storte. Dopo essere tornato indietro dovrai reinstallare alcune app e alcuni programmi quindi quello che dicevamo prima ciò che hai fatto dopo l'aggiornamento potrebbe non funzionare più a dovere. Perderai tutte le modifiche apportate alle impostazioni dopo l'installazione della versione più recente quello che abbiamo appena detto hai eseguito il backup dei tuoi file quindi hai salvato le tue cose l'operazione non dovrebbe influire sui file ma è meglio tutelarsi quindi questa operazione di disinstallazione non cambia niente delle tue cose all'interno del computer ma ovviamente è un'operazione complicata se qualcosa va storto potresti perdere dei documenti quindi se c'è qualcosa che ti sta particolarmente a cuore fai una copia di salvataggio di quel qualcosa dovresti farlo sempre e comunque quindi non è una novità qui te lo dicono perché magari non ne sei consapevole ma il salvataggio delle cose per te importanti dovresti averlo fatto sempre magari in un prossimo video vedremo come farlo a questo punto basta dire avanti cosa che io non faccio perché questo computer va bene funziona bene anche con l'aggiornamento e quindi sono a posto così una volta fatto avanti nuovamente viene richiesta la password se non sei amministratore del sistema quindi se non sei tu che può gestire queste cose sul tuo computer altrimenti invece non viene chiesto niente e il computer fa tutto da solo ci impiega un po' ad installare gli aggiornamenti si spegne e si riaccenderà nella versione precedente dove ci si auspica che tutto quanto torni a funzionare esattamente come prima dell'aggiornamento ci vediamo nel prossimo video ciao quando guardo un video faccio sempre sapere alla persona che lo ha fatto se mi piace oppure no e se mi piacciono i suoi video mi iscrivo subito al canale a Grazie a tutti.